benvenuti nel mio canale siamo di nuovo con voi per le notizie da tabloid non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale dopo esserti iscritto per essere informato di tali più velocemente non dimenticare di premere il pulsante di notifica cosa è successo a karen bursin l'immagine del giocatore con la testa nel sangue è stata all'ordine dei social la fama mondiale di karen bursin è gradualmente aumentata dopo la serie tv sen calca pimi love is in there in cui ha condiviso il ruolo principale con and hercel l'attrice accolta selvaggiamente dai suoi fan soprattutto nei paesi dell'america latina l'ammirazione per karen bursin soprattutto in spagna aumenta di giorno in giorno anche le condivisioni sui social media del giocatore che ha 11,1 milioni di follower su instagram sono molto attese dai suoi fan karen bursin è diventato all'ordine del giorno con il suo ultimo post sui social media la famosa attrice che ha condiviso una foto del suo volto coperto di sangue sul suo account instagram ha scritto presto mettendo il tag cancelletto lemmy sulla sua foto dove ha lasciato cadere la nota be strange story an un usual story nelle ultime quattro ore dopo il post di karen bursin il tag lemmy è diventato l'argomento più ricercato sull'attore il post del giocatore ha ricevuto molti mi piace e quasi 10.000 commenti in breve tempo karen bursin la cui popolarità in spagna è in aumento negli ultimi mesi si è recato spesso in spagna e ha degli incontri bursin la cui reputazione sta crescendo nel paese sta per firmare una serie di accordi si sa anche che l'attore sta cercando di imparare lo spagnolo per prendere parte ad alcune serie film o diverse produzioni da girare nel paese è anche tra le questioni curiose se il nuovo progetto dell'attore sia legato a questo paese era così nelle nostre notizie se ti piace premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti ciao e ci vediamo al prossimo video